Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'attesa separazione tra Alessandra Mastronardi e Giampaolo Sannino sembrava ormai inevitabile, con vari dettagli sospetti che alimentavano i rumors. Smettevano di seguirsi sui social, le foto del matrimonio sparivano dai profili. Tuttavia, un nuovo indizio potrebbe cambiare tutto. In un servizio su un noto settimanale, la Mastronardi ha mostrato un dettaglio che potrebbe far riflettere. Dopo mesi di speculazioni sulla fine del loro matrimonio, un particolare ha attirato l'attenzione. La fede nuziale è riapparsa al dito dell'attrice durante una giornata a Trastevere con amici. Questo dettaglio ha fatto sorgere domande sulla situazione tra i due coniugi. I fan si chiedono se stiano cercando di far funzionare di nuovo la loro relazione. Tuttavia, la Mastronardi non ha ancora chiarito pubblicamente la situazione. Quindi bisognerà aspettare per avere risposte definitive. Resta da vedere se questo segno di cambiamento porterà a una riconciliazione o se si tratta solo di una coincidenza. La storia tra Alessandra Mastronardi e Giampaolo Sannino continua a tenere banco, con il pubblico in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro.